fratelli juventini e sorelle juventine bambini juventine e bambini juventini embrioni juventini e embrione juventine spermatozoi juventini e spermatozoe juventine questo video lo dico prima prima che voi mi attacchiate che venite sotto è un video provocatorio ma altamente credo istruttivo soprattutto per le nuove generazioni dall'alto delle mie nove finali di champions league tutte viste e tutte sofferte tutte compreso le due vinte quindi dal basso delle mie sette sconfitte dal fatto che io ho percepito che l'europa è grande l'italia è piccola il mondo è enorme l'europa un po' meno alla luce di tutte queste cose che sono assolutamente circostanziate e non e non confutabili io vorrei approfittando del mio canale youtube denominato come voi ben sapete max montagna channel perché è un canale mio non è un nome io ho dato il mio nome al canale ma il mio è un canale che tratta più argomenti così rispondo a quelli che mi definiscono un tuttologo io non sono un tuttologo io sono una persona che ha una grande cultura perché amo leggere non guardo la televisione non guardo i telegiornali ho letto centinaia e centinaia di libri ho studiato la natura ho fatto l'università mi piace istruirmi quando non conosco una cosa mi documento leggo mi informo quindi non sono un tuttologo sono una persona che ha una discreta cultura il tuttologo è quello che parla di tutto e ne parla male di quasi tutto quindi io non è che sono un tuttologo sono una persona che gli argomenti che conosce cerca di sviscerarli di portarli avanti come può nei limiti dell'umana ragione e delle morte dell'umana comprensione quindi dal diciamo dal pulpito del mio canale max montagna channel come vi ripeto vorrei lanciare una petizione questa petizione che troverete scritta anche nel titolo di questo video ripeto provocatorio è basta scudetti basta scudetti ci siamo rotti le palle di vincere scudetti basta 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 la natura ci insegna la numerologia la scaramanzia ci guidano quando abbiamo vinto noi le due coppe dei campioni 1985 1996 gli unici anni in cui noi non eravamo più in lotta per lo scudetto eravamo già tagliati fuori non avremmo mai potuto vincerlo arrivati incazzati alle due finali perché avevamo non avevamo vinto lo scudetto abbiamo giocato bene purtroppo alla i zero è successo quel che è successo ma sono sicurissimo che avremmo vinto due o tre zero quella sera assolutamente sono sicurissimo sicurissimo perché erano partiti subito subito in tronco erano partiti ovviamente a roma con l'ajax primo tempo dominato poi purtroppo una papera di peruzzi ha fatto parigiare l'ajax ma altrimenti l'ajax non è che abbia fatto tante cose quindi basta scudetti agnelli elkan paratici nedved pinko pallo savaudi famiglia agnelli exor chi cacchio volete voi basta scudetti basta perdetene qualcuno adesso questo che si sta per giocare non vincetelo non vincetelo sarà propedeutico vedrete sarà propedeutico e foriero di gioia in champions league magari non quest'anno ma l'anno prossimo non vincetelo portaronia lo scudetto portaronia hashtag lo scudetto portaronia se la juventus non vince lo scudetto vince la champions basta scudetti agnello basta scudetti basta non se ne può più degli scudetti piuttosto un europa league che non sarà una grande coppa ma è sempre meglio che vincere l'ennesimo scudetto ormai è come mangiare tutti i giorni la stessa minestra ha sempre lo stesso sapore ma basta ma basta andate pure a cercare una mora se avete una bionda andate pure a cercare una rossa se avete avuto una bionda una mora andate pure a cercare una anche rasata che cazzo ne so andate se vi stancate di avere la macchina utilitaria magari cercate un suv siete stanchi del suv prendete la macchina fuori serie ma basta quando è la vita bisogna cambiare qui non voglio parlare di gerarchie è fuori discussione che una champions league vale molto più dello scudetto lo sa anche un bambino di cinque anni no non parlo di gerarchie non parlo di gerarchie parlo di basta di è ora di basta vincere gli scudetti ma basta portano rogno gli scudetti vinciamo delle champions league non dobbiamo trasformare il nostro motto fino alla fine in fino al confine non possiamo essere sempre presi per i fondelli dei milanisti addirittura dagli interisti che hanno una coppa più di noi basta scudetti basta lo vuole la lazio e che se lo vinca la lazio lo vuole vincere conte e che se lo vinca conte lo vuole lo vuole gasperini che se lo vinca gasperini ma chi se ne frega arriviamo nelle prime quattro facciamo come faceva il milan di galliani che dello scudetto non ne fregava niente hanno vinto cinque champions cinque ne hanno vinte cinque nel loro nel loro nel loro nel loro potentato le due di prima non contano un cazzo negli anni 60 mandavano in campo le squadre di riserva le altre società ma i cinque che hanno vinto loro più i due che ce li hanno fa sette e l'inter l'ultima è stata l'inter ma possiamo noi lasciare all'inter il titolo di essere l'unica l'ultima che ha vinto l'europa la champions league dell'italiana ma possiamo mai noi avere questa questa beffa nel nostro dna no 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 basta scudetti 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 basta non se ne può più mi sono rotto gli zebedei di vincere gli scudetti va bene io quest'anno festeggio se non lo vinciamo se non vinciamo lo scudetto festeggio anche se non vinciamo la champions se invece lo vinciamo faccio come gli anni scorsi non lo festeggio perché ormai mi sono rotto le palle perché non conta un cazzo perché siamo come il paris saint germain che vince gli scudetti così senza impegnarsi come l'ajax in olanda come il porto in portogallo campionato che non è combattuto abbiamo una razza seconda che serve a perdere a berga non si stacca già subito prima portata che riprende dai basta scudetti basta basta per piacere basta ve lo chiedo col cuore in mano famiglia gnelli basta ma basta ma non siete i padroni dell'italia non siete padroni d'italia perché appena c'è un po di crisetta chiedete subito i soldi allo stato subito appena c'è una crisetta subito avevate già guardiola in mano avete dovuto spostare tutto avanti perché avete chiesto i soldi allo stato perché siete stati in emergenza ma emergenza di che ma emergenza di che che vi escono i soldi dalle orecchie ma emergenza di che mamma mia mamma mia ma chi ci tocca avere come dirigenza come proprietari mamma mia e c'è gente che vi adora c'è gente che c'è gente che vi stima c'è gente che vi vuole bene c'è gente che vi difende mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia io non litigo con gli interisti non litigo con i milanisti non litigo con i napoletani non litigo con i tifosi della tesquale io litigo con gli juventini vi rendete conto vi rendete conto basta basta scudetti basta scudetti ciao